Dottor Cardelli, quali sono gli elementi innovativi, quelli che distinguono una proposta come Your Wellness Way? Your Wellness Way nasce come idea per un percorso integrato dove le competenze specifiche di attori con esperienza trentennale nel settore, da una parte nella realizzazione del contract, nell'hospitality e quindi anche delle spa e dall'altra per quello che riguarda la consulenza e la formazione nel campo del benessere, riunendo il tutto sotto un'unica compagine che assicura una specializzazione e un unico interlocutore per tutti i vari processi, a partire chiaramente da quello che è l'argomento principale, cioè il piano di fattibilità e l'analisi iniziale per dove posizionare e realizzare una struttura complessa, come quella appunto di una spa all'interno di una struttura ricettiva. Quindi nasce con questo obiettivo di dare forza e sostegno a quello che oggi è un mercato sicuramente importante, ma dove è anche molto molto rilevante il bisogno di avere degli interlocutori specializzati che appunto assicurino un unico project management a tutta la realizzazione della struttura. Parliamo proprio delle spa italiane, del mercato e delle potenzialità. Quali sono secondo lei? Chiaramente anche qui noi abbiamo effettuato delle valutazioni per cercare di capire meglio e di fotografare quella che è una realtà tutto sommato non proprio assolutamente ben documentata, perlomeno in Italia, che è un paese emergente da questo punto di vista. Possiamo sicuramente dire che il trend delle spa è un trend in crescita. Possiamo dire che attualmente le spa su 20.000 hotel circa, che partono dai 3 stelle fino ai 5 stelle, su questi 20.000 hotel attualmente le spa presenti diciamo che si aggirano intorno alle 1.800 unità. Quindi questo ci fa percepire sicuramente un grande mercato e un'ampia possibilità di espansione con questi numeri. Secondo lei su che cosa dovrebbe puntare l'operatore proprio per incrementare il business all'interno delle spa? Diciamo che oggi i fattori importanti dove bisogna a mio avviso focalizzare e concentrare la nostra attenzione prima di andare poi su una serie di aspetti che ripeto in questo caso sono molteplici. Sicuramente c'è una necessità di rivolgersi a delle competenze specializzate, quindi società di consulenza o dei consulenti del settore. Un grande atteggiamento di rispetto nei confronti delle risorse umane, quindi sicuramente è molto importante studiare la location, studiare gli spazi, la funzionalità, i bacini di attrazione, vedere quelle che sono le potenzialità del mercato, di dove andiamo a inserire e a sviluppare una nostra attività nel mondo del benessere. I punti deboli, il più debole attualmente nel nostro paese è quello delle risorse umane. In realtà avere una macchina performante, avere una grossa struttura o avere comunque ripartito nella maniera ottimale gli spazi, i pesi all'interno di una spa meravigliosa, se poi non abbiamo dentro un team organizzato, efficiente, che crede soprattutto in una leadership convinta, tutto questo chiaramente non funziona. Per cui io vorrei insistere e ricordare che valorizzare le risorse umane, prepararle quindi con un procedimento che riguarda la formazione, riguarda il fatto di sviluppare comunque una cultura nel mondo del benessere sotto tutti gli aspetti che sono tanti, secondo me diventa un elemento imprescindibile, ripeto, oltre al fatto di affidarsi a competenze specializzate.